3 9 9 9 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 15 15 16 15 Scusa, concentrati, Rusco non serve un cazzo così però eh, non so perché ero lì, ok, attenzione dove batti te è giusto, però metti la frutto, ci sei, ci sei, dai vai vai Rusco, bravissimo, vero, Dobbiamo aver cambiato, sei, dai vai vai, lui, è lavoro, sai, doffi in palleggio, sei, vai, l'ordero, sei, la paralletta Simo, quattiamfia. batti di fronte sei il muro non puoi fare il doppio della strada rispetto agli altri se vuoi battere su maestri batti di fronte se vuoi batti su cangio batti non in diagonale e gonfia il fatto è questo è che voi siete ancora fortunati perché sei nella fase in cui ricevete e vi date comunque sia dei palloni alti ma se batti il muro batte in diagonale o scatta per davvero o lì Galletto doveva chiamare super e attaccava senza muro lungolinea perché tu hai il fiatone adesso sei l'unico battitore te lo ripeto il problema è l'opposto di quello che stai pensando i palloni escono perché trattieni il colpo non lo fai finire tu fai questo e la palla finisce non gli dai l'indicazione del polso verso il basso ok si sono Gale fammelo un palo ogni tanto però eh scusa per il caldo un parallelo ogni tanto una volta dobbiamo fare bene il primo appoggio e risparmiare usa la testa fai bene il primo appoggio e risparmiare il salto e l'attacco è l'errore ci sei ci sei Siamo, siamo, siamo! Bravissimo, doppia, quadrupla, bellissima questa battuta, no, no, oh, ma sei in ritardo a muro, è fuori dall'asta, ti basta salire davanti invece che inventarti i muri, ufficio complicazioni affari semplici, salti continuamente, è raggio muro tuo, basta fare troppe cose complicate, fallo, non buona, nessun livello, dita sul pallone, non vale a nessun livello, questa è proprio male eh, lo puoi fare. Vieni, lo devi perderti sempre. Vieni, lo devi perderti sempre. Sto facendo mille attacchi e tu gli alzi tutti i palloni, cioè capisci che non può essere d'aiuto, prendo di mira lui ed è anche in battuta, è un casino eh. scusami, rosca, ho sbagliato io. Pardon. Quanto? Quattro, tre, noi. Apri? Sì, lo so, ma continua a saltare in obliquo, la toccata è stato fortunato che non ti abbia fatto male fuori. Eh, invece che saltare i diritti da riferimento. fai la guardia che siamo in difesa, non hai toccato un po' in difesa perché o prendi le mani fuori o muri, non serve un cazzo così. E batte il diagonale per fare più fatica. Io, in te, non vi capisco. Galle, velocizza la rincorsa, non c'è andare sempre per passeggiare. andiamo a estremo qua, non spi. Perfetto. Se la spingi con le dita è facile, se rimbalza no. primo errore in battuta su coppia numero 1 quanto? 5-4 voi 5-4 4-5 4-5 3-5 3-5 3-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 6-5 6-5 6-5 6-5 6-5 6-5 6-5 6-5 7-5 Mestri è al limite un pelo più di questo qui è doppia sappilo ma un pelo eh 7-8 8-9 8-9 eh quella di prima pezza ha bucato la parete del suono con quel rumore 8-9 8-9 porca non sul centro non sul centro e tu gli alzi tutti i palloni e tu gli alzi tutti i palloni campione Galeandro bravissimo sono molto inervosito che hai staccato prima di vedere l'alziata però Galeandro molto inervosito 9-9 9-9 7-9 7-9 7-9 9-9 10-9 10-9 10-9 10-9 10-9 10-9